1. Stemmen Lorenzo Montivo 2. Difesa esterno numero 11, Forza Capitano, l'unico solo, Super Bais, Cristian Maccio 2. Esterno numero 3, Freccia Nostra, Gaetano Letizia 3. Settare 14, The Guardian, Massimo Volca 4. Numero 5, il ministro della difesa, El Moro, Luca Calvino 5. Centro capo numero 21, Igorilla Perpa, Etebani 5. Capito di Vecina, il numero 28, Dominator, Pasquale Schiattarella 6. Numero 10, Ayoder, Nicolas Viola 6. Numero 7, Sniper, Oli Tragal 6. Numero 25, il manuobattolino, Marco Su 6. E con il numero 9, il nostro bomber, Ispanico, Massimo Goda 6. Aleatore, nostro mister, Super Pippo, Izzani 6. A disposizione 12, Ipolo Volfredini, 22, Vigogori, 2, Francesco Lillo, 4, Lollo Del Vito, 15, Cristian Bastina, 16, Riccardo Iprota, 18, Wright Jaufi, 19, Roby Zigne, 20, Giuseppe di Serio, 32, Gabriele Molcini, 35, Federico Barba Mai un passo indietro, Saniti, Forzionote, inoltre, fuori e fuori la voce e sempre, Forza Benevento! Popolo Sennita, lo sentite? Dalla Curva Sud, mi suona il battito, cialo rosso, scaldiamo i cuori, alziamo il volume, ed uniti, saremo il dodicesimo uomo in campo, sempre Forza Sennita, Sennita! Popolo Sennita, lo sentito che acconire il nome del voce Con cristal la victoria, con cristal la verona Aè! 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 Aò che è venuto di! Con cristal la victoria, con cristal la verona Aè! 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 Aè!